Parole povere, ospitalità. Questo è il tema del passaggio di San Francesco d'Alessandria, una delle tappe italiane della manifestazione promossa dalla rivista San Francesco in occasione dei cento anni della sua fondazione. Il capoluogo è stato scelto perché secondo fonti francescane il santo nei suoi tanti pellegrinaggi fu ospitato da una persona molto nota in città e timorata di Dio e poi predicò il Vangelo al popolo. Oggi direbbe non giriamoci dall'altra parte, oggi direbbe fa diventare la tua vita partendo proprio da questo gesto vissuto qui ad Alessandria, ricevuto, cioè si ospitale. Dobbiamo passare da hostess, da nemici, da vedere nemici dappertutto a ospes, ospitali. Ecco, noi dobbiamo lasciare negli altri un ricordo buono, un ricordo bello. Per fare questo abbiamo bisogno di un cuore ospitale. All'incontro hanno partecipato il Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, del sindaco Gianfranco Gutica di Avivigliasco e l'artista internazionale Michelangelo Pistoletto. San Francesco era un personaggio straordinario che aveva uno sguardo sulla realtà veramente simile a Gesù Cristo. Infatti quando morì fu da subito celebrato come un alter Christus. Il suo modo di guardare alle cose è straordinariamente attuale sempre, in ogni tempo, perché è un modo essenziale. Francesco andava all'essenzialità delle cose e sapeva passare sopra ogni genere di convenzione per andare al succo della vita. E il succo della vita per lui innanzitutto era Dio. E poi l'amore fraterno, il vivere insieme, il volersi bene, la letizia, la gioia. Uno pensa i santi, magari San Francesco con le penitenze che ha fatto, chissà che musone. Invece San Francesco era quello della letizia, era sempre allegro, sempre lieto e voleva che i suoi frati fossero sempre lieti, sempre contenti. Francesco ha lasciato il segno anche qui. È un segno che poi è durato nel tempo. Sono arrivati i francescani, si sono insediati ad Alessandria, hanno realizzato la struttura dell'Achile di San Francesco che è poi diventato ospedale militare e oggi è bello perché al momento in cui si ricorda la venuta di San Francesco ad Alessandria, noi stiamo lavorando lacrimente e c'è il progetto esecutivo per il restauro dell'Achile di San Francesco. Il recupero di un rispetto nei confronti di una comunità è presente con delle testimonianze, ne rimangono due qui. Una è la Chiesa di San Francesco di Cassine e l'altra è la Chiesa ex Chiesa di San Francesco di Alessandria. Sono ben felice di aver dato e fatto tutto il possibile almeno per mantenere queste due memorie importanti perché fan parte della nostra storia, fan parte della nostra società, fan parte del nostro animo.